Con il dottor Fernando Burchi facciamo il punto della situazione in Casenra Azzurra, una settimana importante perché il mister Pagliari potrà lavorare con tutto il gruppo a sua disposizione. Sì, finalmente dopo parecchie infortuni oggi il gruppo è completo, non ci sono infortunati, non c'è nessuno che affebbe, non ci sono malattie serie e quindi l'allenatore ha tutta la rosa a disposizione, quindi potrà decidere per il meglio. Abbiamo appena terminato un periodo, come ha detto lei giustamente, non facile, sul quale ha contribuito anche condizioni atmosferiche e dei terreni altrettanto non facili. Sì, sicuramente, il girovagare per la Toscana, addirittura andare all'Anteria a fare gli allenamenti non è che sia stato per noi un gioco, anche perché i terreni pesanti hanno influito molto su questi ragazzi. Sì, poi le partite erano avvicinate, la Coppa Italia, quindi speriamo ora che il tempo sia migliore e per ora siamo contenti perché la squadra è completa. Cinque partite alla fine c'è da serrare i ranghi sperando che tutto vada per il meglio. Sì, questo sì, questo i ragazzi lo sanno e quindi l'allenatore lo sa e è chiaro che noi siamo qui a aspettare il meglio, il meglio da loro. Noi li abbiamo curati, insieme a Mario, insieme a Marchino abbiamo lavorato, li abbiamo portati a spasso per la Toscana, l'abbiamo portato in Lombardia, a Brescia per un recupero più veloce, quindi noi abbiamo lavorato. Ora il lavoro è finito, i giocatori sono tutti a posto e speriamo che ci diano buone notizie.